Aspetta l'ok il signor Peruzzo che guarda il suo cronometro e dice che si può iniziare e allora forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, subito il lancio di Hernanes, eccolo qua il giaguaro che riceve, parte Palassio, palla lunga a cercare Rodrigo, colpo di testa a rimorchio per l'arrivo di un compagno, eccolo qua Hernanes, carica il destro, il tiro, uuuuh, palla che va fuori di un metro, prima conclusione del profeta. Conner battuto, palla dentro, mancano l'impatto, cadono a terra in due, reclama il rigore Rolando, quella caduta in area di rigore con Rolando che allarga le braccia, eccolo qua, vediamo Rolando, ma in realtà è Samuel che è trattenuto, Samuel, 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 parte la traiettoria, palla che gira, Samir, vola, vola, vola! Berardi cerca di passare, Nagatova gli porta via palla, letta la profondità per Palassio, è in vantaggio su Cannavaro, Senevaro Grigo, entra in area dalla sinistra, attenzione, guadagna il fondo, Milito, è solo il tiro, il miracolo del portiere! Clamorosa, palla, gol! L'Avito dice che basta così per il primo tempo che finisce con i parziali di 0-0, da corner battuto, palla dentro, colpo di testa, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Walli, Walli, Walli! Walli, Walli, ma sì! E l'avevamo detto, dobbiamo sfruttarle, ed ecco lo che avessò Walter Samuel, al minuto 3, Inter in vantaggio, con il gol di testa di Walter Samuel, primo gol, stagionale per lui e l'Inter è sopra di uno, oh, finalmente! Lo stacco perentorio e mette alle spalle del portiere, bruciando il suo marcatore, Walter Samuel che reclama un calcio di rigore nel primo tempo per una trattenuta di Bianco, che in questo caso lo trattiene ma non riesce ad anticiparlo, la sfida fra i due capitani, palla dietro, attenzione, Palassio resiste, l'intervento è irregolare, c'è Ruben Botta che arriva al centrale, palla buona per Botta, si disturba, Hernanes, il destro! Pegolo! Johnny, il filtrante per Ruben Botta, si deve girare, attenzione, balla buona per Guarin, il cross al centro, Pegolo in anticipo su Palassio, ma è un Inter che con la rapidità di Ruben Botta là davanti può creare pericoli veri, si libera di Cipsa con un buon dribbling, cerca di andarsene centralmente, palla per Guarin che carica al destro la parata di Pegolo, arriva Ruben Botta, va all'uno contro uno, attenzione, cerca di guadagnare il fondo, il tiro, ancora Pegolo! Palla per Nagatomo e Navidro dice che l'Inter con i gol di Walter Samuel trova la prima vittoria del 2014. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti